Hai finito la carta igienica in bagno? Prova il nostro rotolo. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una kappa, il posto giusto. Bene, ciao a tutti e benvenuti qui. Sembrerebbe una cosa strana e anche un forse un autogol, ma in realtà è una ricetta buonissima. Che cosa vuoi preparare? Spero una cosa che non usino come carta igienica. Una cosa buona e che non vi porti neanche in bagno. Io ho provato... Volevi fare qualcosa? Ma le tue intro sono vecchie, sono noiose, la gente si aspetta a fogli d'artificio. Non è che si aspetta, si deve andarsi a vedere... Allora cerchiamo di preparare, basta, cerchiamo di preparare un piatto che sia all'altezza della tua intro, ma che non finisca come auspica la tua intro. Sì, facciamo un rotolo, ma golosissimo, un rotolo al salmone per le cene d'estate. Tornata a casa tardissimo, sono già le otto, devo preparare una cena veloce. E allora stasera improvviso con voi un sandwich a rolet. Quindi del pan carré, io ne ho qui cinque fette. La ricetta che vi do è per cinque persone, anche se noi siamo quattro, ma ce n'è uno che mangia per due. 100 grammi di salmone affumicato, quello scozzese, del formaggio spalmabile, io ho scelto quello che piace a Kaori. Poi del lattughino, 100 grammi di mozzarella, un avocado, del succo di limone. Preparo il piano da lavoro con un bel foglio di carta forno. Quindi stendo il pan carré, sovrapponendo i margini l'uno all'altro. Così, guardate, uno sopra l'altro, uno sopra l'altro. E con il mattarello schiaccio bene i margini tra loro. Se il mio pan carré non è umido, quindi è un po' secco e i margini faticano ad incollarsi l'uno all'altro, posso bagnare questi margini con un goccino di latte o anche con un goccino di acqua. Latte, ovviamente, anche un latte vegetale va benissimo. A questo punto prendiamo il nostro formaggio cremoso. Una confezione sarà più che sufficiente. Se lo volete super cremoso, allora adattate le quantità ai vostri gusti. A questo punto adagio il lattughino. Così, in maniera molto veloce, metto il lattughino, che avrò già lavato e asciugato, mi raccomando, su tutto. Non aggiungo sale perché il salmone è bello sapido. Dopo il lattughino comincia a disporre il salmone. Potete anche spezzettarlo, anzi forse è meglio così le fette non vengono troppo cariche di salmone, perché poi noi lo serviremo arrotolato, quindi ogni pezzo avrà più pezzi di salmone. Adesso è il momento della mozzarella, che io inserisco grattugiandola, con la grattugia a fori grossi. Manca l'ultimo ingrediente, l'avocado. Io con l'avocado abbondo, perché qui piace un sacco a tutti. Porta anche quella componente burrosa, che fa sì che i sapori si amalgamino. Potete anche schiacciarlo con la forchetta e spalmarlo. Ora, se vi piace, giusto una spruzzatina di limone, proprio qualche goccia, e aggiungo anche un filo d'olio. E ora c'è la parte difficile. Mi aiuto con la carta forno, quindi piego e schiaccio. Mi aiuto proprio con lei. E mano a mano arrotolo tutto. Parte del condimento, alla fine lo perderò. Perché io lo so che l'ultima fetta non dovrei farcirla, ma poi la farcisco sempre. Et voilà. Bellissimo. Adesso non ci rimane che fargli prendere due secondi la forma, e metterlo in frigorifero giusto il tempo di preparare l'insalata. Quindi lo metto qui e con un po' di formaggio cremoso, proprio la parte superiore, in maniera disordinata. Prendo qualunque cosa io abbia per guarnire, nel mio caso dei semi di zucca. Li metto sopra. Questo, se non ci foste voi, non l'avrei mai fatto. Ci stanno bene anche degli anacardi grattugiati, delle nocciole tritate, quello che avete. Et voilà, la cena è pronta. Quanto ci ho messo? 20 minuti? 20 minuti. Una cena sfiziosa? Dai, diciamo che è una cena sfiziosa. Adesso rifilo i margini e faccio le foto. E ci vediamo dopo. Ciao! Allora, com'era la cena? Buonissimo, buonissimo, guardate, ne è rimasto poco. Wow, l'hanno mangiato in tre. Io non l'ho potuto mangiare, purtroppo. Bene, e regge la fetta, anche se è arrotolato in fetta. Provatelo, cucinatelo e non ci vuole niente. Ma a me è buono? Sì. Buonissimo, con la bocca piena. Ciao! Avete visto com'è semplice arrotolare questo rotolo? È veramente buono e ricco di sapore. È gustosissimo, è servito con una bella insalata, mi risolve una cena in pochissimi minuti. Lo preparate prima di andare a mare, tornate dal mare e trovate il pranzo bello e pronto, nutriente, sano, genuino e gustosissimo. Certo, non lasciatelo fuori, sennò sarà pieno di mosche. Condividi il video, metti tantissimi pollici in su, attiva la campanella e mi raccomando, dia ombretta quant'è bella. No, questo non c'è bisogno, ma per farmi capire che apprezzi le nostre ricette, regalami un pollice in su e io te ne sarò grata. E condividi, che ti costa. Condividi, che ti costa. Bene, noi ci rivediamo sempre qua per un prossimo, grossissimo video. Ciao! Ciao!